Buonasera, lei è qui da cinque mesi come direttore sportivo, che bilancio potrebbe fare di questi cinque mesi in questa società? Parto prima dei ringraziamenti perché sicuramente è meglio ringraziare dal presidente all'ultima persona che sta lavorando per il Cantù San Paolo così almeno non dimentico nessuno, dico dagli allenatori, dai dirigenti, dalle ragazze che ci danno una mano, dico Ketty, dico Elena e tutto il resto praticamente, dai due segretari, dall'Angelo a Arnavoldi e penso di aver detto tutto ai custodi e tutto questo, quindi questo è un po' il tutto. Possiamo partire diciamo prima di tutto dalla prima squadra, la prima squadra devo dire che è stata quella che ci ha fatto fare un po' di fatica inizialmente perché sia io che il mister Gelfi avevamo a disposizione 8-9 giocatori della squadra precedente, quindi è stata difficile assemblarla e sicuramente mettere insieme dei giocatori che servivano a questa squadra, in più praticamente la società voleva una squadra giovane, una squadra che giocava bene, una squadra che si salvava e una squadra costò zero e tutto questo siamo riusciti a farlo, quindi è stata la prima squadra. Devo dire che grazie anche al mister perché sicuramente un'esperienza del genere con giocatori 94, 95, 96, 97 è stato fino adesso è un bilancio più che positivo, tra l'altro della Juniors abbiamo già inserito 4-5 giocatori per la prima squadra. Per quanto riguarda la Juniors, la Juniors sicuramente visto e considerato che arrivava da due anni di vittorie perché questi ragazzi hanno vinto due campionati a livello giovanile, si sono trovati proiettati in un campionato totalmente diverso e sicuramente più difficile che è la Juniors regionale A. Devo dire che inizialmente hanno fatto un po' di fatica, adesso sicuramente sono partiti col piede giusto perché hanno capito dove sono arrivati, quindi arriviamo da tre partite positive, un pareggio e due vittorie, quindi siamo più su di metà classifica, quindi è più che positivo. Allievi regionali A, penso che inizialmente abbiamo avuto dei grossi problemi, vuoi per i ragazzi, vuoi perché non abbiamo capito anche lì la difficoltà di questo campionato, però devo dire che la partita di domenica col Pontiso l'ha visto e considerato che loro erano primi in classifica, non avevano subito neanche un gol, vincendo 1-0 il Cantù è logico che è un'iniezione di fiducia a tutto il nucleo che adesso sta lavorando con questa squadra. I 99 non c'è nessun problema perché sicuramente sono in testa alla classifica, l'unica cosa che dice il mista Cesana perché siccome è un po' pignolo dice che abbiamo preso un po' troppi gol, vabbè possiamo anche dirlo però sono sempre in testa alla classifica. Giovanissimi regionali A, anche qui nel mese di giugno quando io sono arrivato è successo uno tsunami perché 13 giocatori sono andati via con il mister che c'era prima, quindi ci siamo ritrovati senza il mister e con una squadra che andava rifatta, quindi è logico che abbiamo fatto un po' di fatica però siamo riusciti ad arrivare a 18-19 giocatori però la sfortuna che hanno avuto questi ragazzi è che hanno avuto 5-6 infortuni gravi, dalla frattura di naso alla frattura di tibia, alla frattura di polso e tutto, adesso speriamo che da domenica scorsa il mister fortunatamente sono riusciti a mettere in campo la squadra titolare e sono riusciti a pareggiare a Dogiono con una squadra che è più su di metà classifica, quindi questo è quanto.